Comincia finalmente la settimana che porta al debutto ufficiale del Bari in Coppa Italia, la formazione di Mignani, scendere in campo sabato prossimo alle ore 18 contro il Parma per testare la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. L'ultimo test ha visto la squadra di Mignani segnare 5 gol al Gravina, al momento la squadra più importante, affrontata in un precampionato che non ha visto amichevoli di lusso. Il Bari arriverà molto probabilmente alla sfida contro il giallo-blu senza quello che sarà il portiere titolare. Brenno non ha ancora firmato, anche se l'accordo tra il Bari e il Gremio sembra addirittura d'arrivo. Giovedì potrebbe essere il giorno buono, ma con il jet lag e un allenamento sulle spalle appare alquanto improbabile che il nuovo numero uno bianco-rosso possa già debuttare nel weekend. La difesa appare reparto più rodato, Dorval sembra aver scavalcato Puccino nelle gerarchie, per il resto Vicari di Cesare Ricci sono l'usato sicuro. A centro campo sono stati proposti Bellomo, Maiello e Maita nel ruolo di mezza alla sinistra in cui ha concluso lo scorso campionato. Le vere novità arrivano dall'attacco, Menezza rifinito per l'ultimo arrivato Nasti, autore di un gol, e perché Dira, che a meno di offerte negli ultimi giorni, parterà a titolare. Il Bari al momento non ha avuto dialoghi con Lofenheim, che avrebbe presentato un'offerta all'entourage del calciatore. Si continua a lavorare per Diav, ma l'affare non ha subito accelerate improvvise che potrebbero arrivare nel fine settimana. Capitolo Benedetti, il Bari attende la decisione della Samp, che ha schierato il centrocampista per 20 minuti nell'ultima amichevole. Per Ejoumaa, invece, Polito tratta solo per un prestito con diritto di riscatto. Se la Stau accettasse le condizioni, il giocatore sbarcherà in Puglia. Grazie. Grazie. Grazie.